Ciao ragazzi, sono Marta del team Sanitechere, volevo ringraziarvi per la vostra fiducia perché stiamo seguendo in tanti da tutta Italia e se avete cliccato su questo link perché non vedevate l'ora di scoprire la nostra offerta, avete fatto bene, è un'offerta riservata per voi vera e reale, quindi se avete in famiglia un soggetto vulnerabile, quindi un bambino sotto i 5 anni o un anziano sotto i 70 anni, scriveteci perché abbiamo un'offerta riservata proprio per voi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, cliccate due volte sulla campanellina per rimanere aggiornati e seguire tutti i nostri video, potete seguirci anche su Facebook e Instagram e se avete bisogno di qualsiasi informazione, scriveteci al nostro indirizzo info-sanitechere.it o potete chiamarci allo 02 87 17 84 63, vi risponderò io personalmente. A presto!